buon forno Mike buongiorno ragazzi e ragazze ciao a tutti siamo in questo primo episodio di teste di tazza 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 siamo io G S primo episodio cooperativa di noi due ma sa 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 ah praticamente questo qua è un run and gun che praticamente ti farà incazzare a bestia Sam mamma mia io l'ho già giocato un po' voleranno tante di quelle cose DIVAMI FUCHE CZEPPE l'ho già giocato un po' adesso questa transizione vi porterà e vi immergerà nel gioco ahahahahah ahahahah caped... dont... non leggo perchè ho paure di spire don't talk la trama io la so vera racconto io caped e mugman Sono due omini tazzosi che praticamente vanno al casino Scommettono molte cose vincono e vincono fino a che non arriva il posto e l'edificio Praticamente sarebbe il diavolo ma è bruttissimo Scommettono col diavolo che praticamente se loro con un lancio di dado avrebbero potuto vincere tutti i gettoni del casino oppure perdere le tappe armi Ovviamente due omini li perdono e praticamente il diavolo li minaccia appunto di togliere le proprie anzioni In pratica loro impregano il diavolo perché praticamente non faccia questa cosa Lui acconsente ma soltanto se questi qui avrebbero riportato a lui le anime dei dannati che ancora non hanno spazzato Ah quindi noi adesso dobbiamo andare a prendere le anime di questi puzzuri Andiamo Tra l'altro c'è anche un coso che salta Ok Ciao a tutti Ci siamo Siamo belli omini tazzosi Give ya mile Tip this Ecco questo è il primo livello Andiamo run and gun Dai Bella raga Ciao a tutti ragazzi Allora Samuele è magman ovvero il quello azzurro io sono quello rosso Ah ok È la rosa quindi potevi saltarci sopra Oh la ma visto quante ne so Figa Ah ah Eh ecco Grazie Se non bestemmio guarda Perfetto Allora ragazzi Non sappiamo quanti episodi porteremo di sta roba Una marea Però Samuele si incavolerà la bestia Non ci confondiamo Siamo praticamente alti Guardi L'ho preso io L'ho preso anch'io E sono anche morto Siamo al primo episodio Gabriel Siamo al primo episodio E siamo Non ci stiamo 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 Visto Attento Oh siamo andati avanti però eh Siamo andati avanti però adesso attento Ok bravo Mamma mia Bravo così Ora devi fare lo scatto Mentre salvi Ok Devi fare lo scatto Bravo Bravo Dai Bravissimo Sono morto anch'io Sì Sì Olè Ma è giusto Non più Aiuto saldali sopra e fai quella roba strana Non la fa Quante ne so Sì Cazzo 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 Eh vabbè dai Sono morto Grandioso Adesso sono rimasto solo Cos'è questo coso? Fare da distruggere e non passare Allora vabbè Quello che fa spalmare queste stranze Vabbè Adesso non mi rompere Dai Gabriel ce la puoi fare Non è possibile YOLO Bravo 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 Ok adesso andiamo allo shop E qui diciamo Piano altre robe Enter Parkour Simporium Cos'è? Welcome Welcome La granata non me ne faccio di niente Quore extra Ecco Vabbè lo piglio anch'io Vai Quore extra Invisible dash Sai che vuol dire invisible dash? No Praticamente quando fai lo sprint Sei invulnerabile Facciamo il boss Prendoli tu dai stessi A posto Goodbye 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 And thank you Wow Wow Facciamo il boss Vai facciamo Tanti sono tutti i boss Finalmente A parte qualche running gun Così Run and gun Vai Olè Ti stai venendo il tuo stesso Perfetto Perfetto Un tubero E la 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 Grandissimo Ma Scusa siamo un po' stupidi Exit map No ma che mi faccio la roba che abbiamo comprato Io scelgo Io scelgo Smoke bomb Invisible Ma abbiamo preso solo due cose Sì Ah Olè Eh Uh Uh Grandi fatalisferri Vai 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 è grandioso Well Oh Olè Almeno lui ha disputato Ce ne sono altri eh Ma Attento su Attento su Cato dom le gocce Non l'avevo visto Allora Questo è importante Vedi che è sotto Ah Eh Sì L'ho visto Premi Eh quando quando bene il cerchio fai una roba super ah l'ho fatto nooo non è così difficile dai sto zinto si è meglio io ho il perry si no cao mi strappa il cervello si è vinto da da ok lì c'è un altro posto cosa c'è qua crclip già lo va a fare ma va a cagare noi si fa tutto mobile carregio è ovvio attento su no attento 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 eh non l'avevo visto perfetto eh e la se non bestemmio guarda parlo di un pappo un pappo un pappo non è possibile ti prendo io è doppio no si salto quando mi arriva oissa no è di qua si sono cazzati aiuto oddio non sto capendo niente aiuto ti ho messo l'inferno non è ancora finito ti faccio sottile un pò di più Boia, sì. Eh, son morto io. Sal... Vengo da te! Vengo da te! Eh, son morto. Salimi sopra! Grande! Oh, no! Che team squad! No, attenta, 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 attenta! Cosa? Ora, parte! Grande! Oddio! Ora la squadra finale è questa, non mi fai nulla così. Cos'è? Non mi fai nui! Non mi fai nulla, devi saltare lì! Eh, riuscita! Eh, cos'è? Passa, sopra, sopra! Che ne sapevo io! Non so, non c'è problema, devi vedere il vento che c'è. Ah, giusto! Eh, grande! Eh! No! Eh, l'ho preso! Mamma mia, dai, 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 dai! La tigre! Cos'è? No! Eh, non l'ho vista! No! Ehi! Oh, oh! Eh! Eh! Nientica! Sì! Ciao, però. Che fai? Mi hai accompagnato in questa lunga bagla. Sì! Ora finirò ciò che è iniziato. Eh! 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 Sì! Eeeh! Eh! Vai, vai, devo resistere a un'altra fase Cazzo, ma se faccio così muore Ora, ora ho paura Io ora son morto Deve metterti l'extra like No out Mi mancava un colpo, mi mancava Bastava aprisse quell'affare Grande capri Ma buono ragazzi, questo era il primissimo episodio di Caped L'altro è questa perché Lo abbiamo diviso in due parti Perché durava veramente troppo E qui potete vedere un piccolo spoiler del prossimo episodio Quindi l'abbiamo fatto da due parti Io spero che questa prima parte di episodio vi sia piaciuta Ovvero l'episodio 1 E l'outro che sentirete nel prossimo episodio Sarà la vera outro dell'episodio 1 Che in realtà sarà per l'episodio 2 Niente ragazzi, fatemi sapere se questa serie vi piace Fateci sapere se questa serie vi piace Noi ci rivediamo ad un prossimo video di Caped O di qualunque altra serie sia Bella ragazzi Noi ci rivediamo ad un prossimo video di Caped